Sì, in effetti il Made in Italy è una componente importante dell'export italiano. Prodotti tradizionali, quali tessile e abbigliamento, pelli e accessori, prodotti alimentari, bevande e tabacco, rappresentano una quota pari all'11% e al 7,4% dell'export del 2018. Tuttavia ci sono alcune componenti dell'export particolarmente dinamiche, come ci fa capire l'analisi dell'andamento dell'export negli ultimi mesi. Nel corso dell'anno le esportazioni sono aumentate del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. I prodotti del Made in Italy tradizionale, tessi, abbigliamento e articoli in pelle dell'industria alimentare, crescono ben al di sopra della media, circa il 7%. Tuttavia nel corso del 2018 il settore maggiormente trainante è il settore farmaceutico, con una variazione di oltre il 28% su base annua, che forniscono un contributo di 1,5 punti percentuale alla crescita dell'export nazionale. Si tratta di fenomeni tra loro molto diversi. Il settore farmaceutico è interessato da diverso tempo da fenomeni di global value chain, in cui la produzione è delocalizzata in vari paesi in cui risiedono gli stabilimenti produttivi di gruppi multinazionali. Questo fenomeno di delocalizzazione è invece ancora in fase embrionale nel settore dell'export agroalimentare, e per quanto riguarda la delocalizzazione del fenomeno sul territorio nazionale, mentre il Made in Italy è delocalizzato in varie regioni del territorio, ad esempio c'è una crescita rilevante dell'export da parte della Toscana di prodotti tessili, dell'abbigliamento e della pelletteria, mentre il settore agroalimentare per Emilia Romagna e Piemonte trainano l'export al di sopra della crescita media nazionale, invece per quanto riguarda la farmaceutica è estremamente localizzata nella regione Lazio. Il settore agroalimentare tradizionale del Made in Italy, tuttavia pur essendo delocalizzato è anche molto vulnerabile. Basta pensare all'introduzione recente dei dazi da parte degli Stati Uniti, che colpirà alcune regioni in particolare, come per esempio la Sardegna, cui prodotti esportati verso gli Stati Uniti di agroalimentare saranno gravati per circa l'80% da dazi. Anche l'Emilia Romagna sarà penalizzata per circa un 20% del suo export agroalimentare verso gli Stati Uniti.